Noi di Diddle lo sappiamo, è la povertà a farvi entrare, ma è la povertà a farvi tornare. Questa settimana torna allo speciale settimana scorsa. Banana putrida che si identifica come appena matura, 100% banana, a 1,99€ al chilo. Zucchine fresche se le prendevi tre settimane fa, a 1,99€. Set di piantine già appassite, che se le bagno un no è uguale, che tanto appassiscono lo stesso, a 1,99€ al pezzo. Riso soffiato dall'alitosi, a 1,999€. Non cambiare stile di vita, cambia supermercato, vai da un'altra parte. Diddle, anche no!